Musica Perde il controllo del mezzo per evitare un branco di lupi, finisce contro il guardrail. Disavventura per una docente di mezza età che l'altro giorno sulla provinciale 11 si è trovata a rifronto di un gruppo di esemplari sul territorio comunale di Secinaro, mentre tornava da Rocca di Mezzo dove insegna. Un incontro del terzo tipo che la costretta a una brusca manovra pur di evitare gli animali, fino a urtare il guardrail e danneggiare seriamente la sua vettura, una Fiat Punto. Sotto shock per l'accaduto, si è rimessa subito in carreggiata per denunciare il caso informalmente alla caserma dei carabinieri forestali. Proprio ieri a Palombaro, un lupo aveva aggredito in due tempi il cagnolino di una donna, l'ha poi trascinato nel bosco tra le fauci. Le foto prese dai vicini mostrano un lupo magro, isolato, forse affamato, ed è questa la tesi degli esperti. L'aggressione di Palombaro, Necchietino, con la donna terrorizzata e ferita da una caduta, poi trasportata in ospedale per accertamenti, e la fine del cagnolino Snoopy riporta alla cronaca lo storico e difficile rapporto tra gli uomini e i lupi, specialmente nelle aree interne appenniniche. Donna e cane passeggiavano per le strade di un paese che fa parte del parco nazionale della Maiella, dove la presenza dell'animale è consueta e la convivenza abitudinale. Ma che in Abruzzo questo sia un tempo dei lupi lo dimostrano i fatti di questi mesi. Nove blupi avvelenati le giorni scorse a Cocurlo, gli avvistamenti di esemplari isolati e la mobilitazione a Spoltore e Pianella in tutt'altra zona, ossia nel Pescarese, hanno fatto alzare le soglie di attenzione. Se nel caso di Palombaro e del Pescarese è il singolo lupo a spingersi verso gli abitati per la fame, nelle montagne a cavallo tra il Sulmonese e l'Aquinano, i lupi si trovano nel loro habitat naturale, ad ucciderli al processo inverso, ossia la presenza dell'uomo nei territori della natura, per una competizione economica. Gli ordini di pagamento risultano emessi, ma la corrisponzione delle somme pattuite non sarebbe mai avvenuta. Per questo la provincia dell'Aquila sarà costretta a riconoscere un debito fuori bilancio di oltre 100.000 euro per i compensi dovuti ai professionisti che hanno svolto i lavori nelle scuole. Tra questi anche gli interventi svolti nel Delino Morandi di Sulmona, liceo artistico, liceo Vico, un contenzioso che è cominciato nel 2017, quando, con decreto ingiuntivo, il Tribunale del Capoluogo aveva intimato il pagamento in favore dei vari professionisti di circa 100.000 euro, importo che equivale alla somma degli indennizi rivendicati da ciascun professionista. La provincia propose opposizione davanti al giudice, chiedendogli di dichiarare nullo e il decreto per infondatezza. Ad agosto dello scorso anno è arrivata la doccia fredda per l'ente provinciale. Il Tribunale ha ricettato l'opposizione, ritenendo fondato il decreto. Non esiste un rapporto contrattuale tra i convenuti e la provincia, stante la mancanza di un contratto scritto. Tuttavia è fondata la pretesa formulata, ricorrendo nella specie presupposti dell'arricchimento in debito della provincia, si legge nella sentenza del Tribunale dell'Aquila. Il provvedimento è stato impugnato, ma è rimasto impregiudicato l'esecuzione dello stesso. Per questo i professionisti, per il tramite del loro legale, hanno battuto cassa alla provincia. Il Consiglio ha quindi riconosciuto il debito fuori bilancio, che arriva a quota 100.000, sommando gli indennizi dovuti agli otto professionisti in questione. Richiedere in tempi urgenti un'audizione presso la Commissione Sanità della Regione Abruzio, è un incontro con l'assessore regionale della Sanità, Nicoletta Verì. Per esporre la causa che Scanno e il territorio intero patiscono a livello sanitario, attivare immediatamente una mobilitazione collettiva di tutte le forze politiche e sociali, con una delibera dell'assise civica riferita alla passata legislatura, ma apparsa in queste ore sul sito istituzionale dell'ente, il Borgo Lacustre riarma la battaglia sulla sanità territoriale, in particolare sul depotenziamento del servizio 118. Dallo scorso primo aprile, solo per nove giorni al mese, l'ASL garantisce la presenza del medico a bordo dell'equipaggio, mentre nelle restanti settimane è presente solo l'infermiere, una rimodulazione che ha fatto scattare la protesta nel centro montano, tant'è che il Consiglio Comunale ha deliberato compatto sull'argomento, opzionando perfino la mobilitazione. Tra le iniziative pianificate, l'assise ha deciso anche di richiedere l'appoggio dei sindaci del comprensorio, in particolare del vicino comune di Villalago, per la piena condivisione dell'iniziativa. All'assessore regionale si chiede, nello specifico, di revocare la decisione adottata dall'azienda sanitaria che continua a fare conti con una carenza di personale senza precedenti storici. In particolare, proprio il servizio 118 risulta in sofferenza, se si pensa che fino a qualche mese fa le reperibilità di Casteldisangro venivano coperte dagli infermieri di Sulmona. Il prossimo mese, infine, altre quattro unità in servizio nell'ospedale Peligno saranno collocate in riposo, non un quadro roseo. La regione Abruzzo continua a prendere in giro Sulmona, è proprio il caso ridirlo, alla luce della ripartizione dei fondi per aggiustare le strade per il passaggio del Giro d'Italia, a denunciare caso il consigliere pentastellato Angelo D'Aloisio. Con una delibera di giunta regionale, 1.700.000 euro è la somma stanziata per i comuni interessati da passaggio della Carovana Rosa, somma stanziata però solo per 13 dei 44 comuni attraversati e per due province su quattro, Sulmona esclusa ancora una volta. Il consigliere Angelo D'Aloisio è quindi tornato a mettere il dito nella piaga o nella buca, se si preferisce. Un comportamento inaggettabile, quello adottato da questa giunta regionale di centrodestra, scrive il consigliere pentastellato, che si mostra sensibile ai problemi di una città solo se questa è amministrata da amministratori a loro politicamente vicini. E' ancora vivo il ricordo dello scippo dei campionati europei di pattinaggio su strada della scorsa estate, fatto ai danni della nostra città a favore della città dell'Aquila, favorita anche in questo caso con fondi speciali dall'ex assessore Liris di Fratelli d'Italia. Partito nel quale si ascolta un assordante silenzio dei dirigenti locali, come afferma D'Aloisio, oggi per il contributo straordinario alla manutenzione stradale in occasione del Giro d'Italia, ieri per i campionati di pattinaggio. Una targa sul piccolo teatro di Via Quatrario intitolato La memoria dell'artista e cantautore sulmonese, Toni del Monaco. L'iniziativa è del comune di Sulmona, che sta programmando un evento commemorativo per il prossimo sabato 27 maggio, in occasione del trentennale della scomparsa lì del Monaco. L'altro giorno la prefettura dell'Aquila ha dato il placet all'intitolazione del luogo alla perenne memoria del sulmonese, che ha fatto crescere intere generazioni con la sua musica. Un lungo percorso istituzionale, che ha preso il via con gli indirizzi della commissione toponomastica, per poi approdare in giunta comunale, che lo scorso settembre aveva approvato l'apposita delibera, ultimo step con esito positivo, in prefettura. Sabato prossimo sarà quindi posizionata la targa, con l'occasione il comune sta predisponendo un evento ad hoc, come comunicato la sindaco a Franca del Monaco, sorella di Toni, che ha colto con soddisfazione l'iniziativa dell'ente. Toni del Monaco, nato a Sulmona il 27 dicembre del 35, prematuramente scomparso il 27 maggio 1993, divenne celebre negli anni 60 e 70, quale autore, interprete di canzoni indimenticabili, entrate nella storia della musica leggera italiana e internazionale. Tra i suoi successi, vita mia è più forte di me, se la vita è così, parla tu cuore mio, che pazzia, la voce del silenzio, una spina e una rosa, serenata, cuore di bambola, un'ora fa, cronaca di un amore, siamo stati innamorati, l'ultima occasione, quest'ultima reinterpretata anche da Mina e Tom Jones, una ricca biografia che Giancarlo Colaprete, alcuni anni fa, seppe racchiudere in un testo. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai, vorrei una voce. Mille e venti giri di piazza contro la fame del mondo, a percorrerli sono stati circa un centinaio di studenti dell'Istituto Mazzini Capograssi, protagonisti dell'evento Emozioni in Movimento, che ha vissato successo e solidarietà. Una grande festa dello sport, dell'amicizia e della prossimità nella centrale piazza, che si è resa possibile grazie alla straordinaria forza della scuola, che è stata una vera e propria agenzia educativa. La somma dei giri di plateatico ha superato quota mille. L'iniziativa, promossa ogni anno all'interno delle scuole italiane d'azione contro la fame, patrocinata dal CONI, rappresenta il progetto didattico, sportivo, solidale e più grande al mondo. A livello nazionale sono oltre 1.200 le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che insieme a 900 docenti e coordinatori hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport, che dalla sua nascita ha coinvolto in tutto il mondo più di 7 milioni di studenti di oltre 28.000 scuole, un vero e proprio movimento di studenti podisti.